mi sentite? Grazie. Perfetto, innanzitutto grazie tantissimo di questo invito, mi fa davvero enorme piacere, ringrazio soprattutto tutta Medicina Democratica e Marco Caldiroli in particolare. Allora, nonostante le nostre, come giustamente ricordava Gianni Tognoni, anche la nostra disillusione attuale, la pandemia ha però riportato sicuramente al centro dell'attenzione il diritto alla salute fisica e psichica, individuale e collettiva e soprattutto la necessità di un rinnevamento del welfare socio-sanitario. Io credo che per comprendere le sfide attuali sia necessaria una riflessione storica che sia anche capace di individuare le principali problematiche che negli ultimi anni hanno contrassegnato il nostro assetto sanitario. Allora, innanzitutto nella vicenda del Covid hanno pesato le conseguenze, come è stato ricordato anche prima, di politiche di privatizzazione e mercificazione della sanità e del welfare che sono state effettuate negli ultimi almeno trent'anni. E in secondo ordine la pandemia ci spinge, a mio parere, a tornare anche alle origini storiche e alle ragioni politiche e sociali dello strumento che è stato maggiormente investito dall'emergenza, il Servizio Sanitario Nazionale, il quale nei suoi caratteri almeno originari ha costituito e potrebbe ancora costituire un mezzo fondamentale a disposizione della collettività per la promozione e la tutela della salute. I limiti che si sono dimostrati negli ultimi anni e nell'emergenza sono derivati soprattutto dal suo depotenziamento, dallo spazio lasciato alla sanità privata, dall'indebolimento della medicina territoriale, che invece aveva informiato la fisionomia del Servizio Sanitario Nazionale. Se noi prendiamo i dati pre-pandemia, questi fotografavano l'entità della riduzione delle risorse pubbliche, grave soprattutto in un paese come il nostro ad alto invecchiamento della popolazione e un decisivo disinvestimento dalla sanità pubblica, che si è palesato soprattutto in termini di riduzione del personale, più di quarantamila dipendenti a tempo indeterminato, di divario nella qualità e quantità dei servizi forniti dalle regioni, difficoltà di accesso, vedi le lunghe liste di attesa, accesso alle cure, insufficiente compensazione del ridimensionamento dei servizi ospedalieri ordinari con un rafforzamento di quelli territoriali, con l'effetto di uno spostamento della domanda verso il mercato privato, che sicuramente rappresenta il fattore di ulteriori disuguaglianze sociali, territoriali e di altra natura e che mette gravemente in discussione l'universalismo. D'altra parte l'emergenza sanitaria ha contribuito a rendere evidenti, oltre i problemi che dicevo, anche quelli relativi alle difficoltà nell'offerta dei servizi ospedalieri, alla scarsità di alcune figure nell'ambito del personale sanitario, pensiamo soltanto per dirne una agli infermieri, e alla mancata attenzione alla prevenzione, nonché anche a uno scarso impegno pubblico nella ricerca. Tutto questo a mio parere è l'effetto delle politiche che sono state introdotte dopo la crisi del 2007-2008, ma ancora prima è l'effetto della più complessiva cosiddetta controrivoluzione neoliberista che si è affermata dagli anni 80-90 del novecento, quando effettivamente la riorganizzazione del capitalismo in chiave neoliberale ha preso la strada di una riduzione dell'intervento pubblico destinato a garantire i diritti sociali e di una crescente privatizzazione dei servizi del welfare. Il ridimensionamento della sanità pubblica io credo che vada analizzato nel contesto di questi processi, che peraltro hanno avuto anche alle spalle una pesantissima revisione politica e ideologica del ruolo dello stato sociale e la costruzione di un senso comune funzionale alla distruzione di ogni forma di solidarietà sociale, ma anche l'entrata delle logiche di mercato e profitto nelle attività di cura, istruzione, salute, ambiente, ricerca e via dicendo. Ora credo che, ricollegandomi a quello che diceva Gianni Tognoni, la domanda da cui partire potrebbe essere così formulata. Quando e perché la politica ha assunto alla promozione e la tutela della salute degli esseri umiani come obiettivo centrale della sua azione? A mio parere il riferimento è sicuramente agli anni della guerra, per l'appunto, al Beveridge Report del quarantadue e poi all'attuazione del servizio sanitario britannico del quarantotto e anche il riferimento è all'organizzazione mondiale della sanità del quarantasei quando nacque, la cui definizione di salute effettivamente continua ad avere una grande importanza, la salute come stato di complesso, scusate, di completo benessere fisico, psichico e sociale e non puramente come assenza di malattia. Ecco, la formulazione di un diritto alla salute in questa dimensione, questa multidimensionalità, nacque effettivamente da istanze di profondo cambiamento politico, sociale e culturale e si intrecciò, come ricordava Gianni, alle questioni legate a un nuovo ordine internazionale fondato sulla pace e sulla centralità degli strumenti redistributivi dello stato sociale. Il percorso italiano fu molto accidentato effettivamente perché la centralità di un intervento pubblico al fine di garantire le condizioni essenziali di una vita in buona salute emerse non a caso proprio durante la resistenza e poi durante l'assemblea costituente, ma ci sono voluti trent'anni perché si arrivasse poi all'istituzione dell'SSN. Il di grande rilievo e credo che abbia ancora una grandissima attualità, lo abbiamo visto sotto il covid, è la formulazione, il dettato dell'articolo trentadue della Costituzione, il quale ha messo insieme, mette insieme pretese sia positive attribuendo a tutti il diritto di pretendere dalla Repubblica beni e servizi essenziali alla tutela della salute, ma anche pretese negative dell'individuo rispetto a comportamenti illessivi per la sua integrità psicofisica, ossia rispetto a trattamenti sanitari non considerati obbligatori nell'interesse della collettività, sempre lo stringente legame tra interesse del singolo e interesse della collettività. Ora sappiamo, ripeto, che nonostante queste avanzate elaborazioni, l'Italia mantenne in piedi di fatto un assetto mutualistico ereditato dal regime fascista sino al settantotto, ma sappiamo anche che durante gli anni sessanta il dibattito alla salute si aprì a nuovi orizzonti e il percorso colminò in questa nuova istituzione inventata del Servizio Sanitario Nazionale. E quella riforma fu il coronamento di una sinergia di forze, elaborazioni, iniziative, alleanze in parte nuove e non a caso nella sua ideazione furono coinvolti moltissimi attori sociali e politici, più ambiti di ricerca collettive, nuovi saperi, forme originali di lotta, di sperimentazione istituzionale. Si diedero cioè nell'ambito della salute e della sanità in Italia negli anni soprattutto settanta sperimentazioni di grandissima qualità informate da modelli di autogestione, di autorganizzazione e la riconduzione della salute a fatto sociale e politico, si diceva sociale nella genesi e politico nella sua risoluzione, ma anche la centralità del momento preventivo dell'intervento sanitario che doveva essere un intervento continuo, globale e integrato, era al centro dell'attenzione. Chiaramente un ruolo decisivo assunsero alcune forze politiche sindacali ma soprattutto i movimenti, alcuni movimenti. Ricordo il movimento femminista, quello studentesco, ovviamente il movimento operaio, il movimento di lotta per la salute, e il movimento della psichiatria cosiddetta radicale. Fu un percorso molto ampio che metteva in campo una visione unitaria della salute legata alla comunità e al territorio, una concezione politica dell'ambito medico e sanitario, una consapevolezza forte sulle responsabilità del capitalismo, ad esempio rispetto alle cause sociali delle malattie. Ecco, e maturò la convinzione che il diritto alla salute dovesse comportare scelte politiche in cui tutta la popolazione dovesse essere attivamente coinvolta, scelte culturali, istituzionali che soprattutto dovevano modificare nel profondo gli strumenti della democrazia, i presidi e gli strumenti della democrazia. Mi limito a ricordare tra questa esperienza quella delle inchieste della della salute in fabbrica e nei luoghi di lavoro, diciamo tutta l'attività di Odone, di Marri, di molti altri che appunto promuovevano il diritto dei lavoratori all'integrità psicofisica, famoso slogan, la salute non si vende, e costruivano anche un linguaggio nuovo in grado di connettere il protagonismo e le conoscenze operaie sulle condizioni di lavoro con quello della comunità scientifica medica, bandendo la delega agli esperti. In più in generale la la vicenda della sanità fu rappresentativa a mio parere di profonde trasformazioni che in quella stagione storica tanto vituperata, cioè gli anni settanta da mass media e anche da tutta una serie di dei miei stream e di e di racconti, di rappresentazioni che girano da anni, in realtà fu il momento di maggiore innovazione, di maggiore riforme nella storia nella storia italiana. I riforme e in innovazioni e trasformazioni, cambiamenti che investirono tutta l'organizzazione della società, i rapporti tra i cittadini, i bisogni, le istituzioni, i servizi collettivi e in più ambiti del welfare non a caso si diedero una serie di sperimentazione di grandissimo rilievo che mettevano in crisi i modelli burocratici, familisti, corporativi, tradizionali. Quindi si diede una grandissima vivacità proprio perché quel cambiamento coinvolgeva tutti i rapporti sociali, di produzione e riproduzione, tutto l'assetto istituzionale e i nodi della cittadinanza appunto democratica. Ovviamente non lo dico qui ma grandissimo rilievo ha avuto medicina, la nascita di medicina democratica, la figura di Giulio Maccacaro come ovviamente sappiamo tutti. L'elemento importante è che quelle appunto, quelle rivendicazioni che insomma del movimento per la salute hanno secondo me un'attualità ancora oggi. Penso al fatto che mirarono a non separare il campo sanitario da quello sociale, perseguirono un cambiamento radicale della formazione del personale sanitario, misero al primo piano la prevenzione, la medicina di base e di comunità e si trattava di lotte, lotte di riappropriazione della salute, di forme di democrazia diretta nell'ambito socio sanitario che combattevano la subordinazione della salute alle logiche del profitto oltre che la ospedalizzazione. La salute come ambito di vita e di cura delle persone, di una cura che assumeva il significato dell'avere cura opposto alla medicalizzazione terapeutica della società diventava il terreno di una serie di mobilitazioni, di una politica delle alleanze e di conflitti. Diventava il terreno di una nuova cultura dei servizi pubblici che era sempre stata assente in Italia. I protagonisti furono molto numerosi e appunto vennero da più esperienze anche sparse sul territorio. Quando si arriva finalmente alla riforma nel 78 allora vorrei solo ricordare le linee generali di quella riforma. Ricordo il fatto che fosse connotata da un'impostazione integrata dell'intervento sanitario e di quello sociale, dalla centralità del momento preventivo, dall'approccio epidemiologico così assente durante tutti questi due anni di pandemia, da un'organizzazione territoriale decentrata, da una da una impostazione capace di investire le questioni legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dell'ambiente, dall'avvio di una gestione partecipata da un nuovo rapporto tra il medico e il paziente e tra l'operatorio sanitario e l'essere umano. Quindi i suoi principi ispiratori furono universalità, globalità delle cure, omogeneità dei servizi e della copertura, equità di accesso, programmazione in collegamento con i piani anche economici e territoriali e legati all'assistenza sociale, garanzia di un diritto alla salute uniforme su tutto il territorio nazionale, finanziamento tramite la fiscalità generale e partecipazione democratica alla determinazione e gestione dei servizi sociosanitari. Ora, se questa vicenda è leggibile riannodando questo lungo filo rosso di quel momento storico, è bene anche però ricordare che in Italia si giunse a questa riforma espansiva quando a livello internazionale proprio l'ambito della sanità diventava il bersaglio di politiche di contenimento della spesa pubblica e della spesa sociale nel suo complesso. Infatti a partire dagli anni ottanta vennero a mutare le condizioni economico-politiche e sociali che avevano visto la realizzazione di quelle e di altre importanti riforme degli anni settanta e il cammino per proseguire anche nella riscrittura universalistica dello stato sociale finì sempre più per ridursi. Possiamo dire che alla capacità di introdurre grandi cambiamenti, si sostituì una politica improntata a interventi limitati, settoriali, i vincoli di spesa divennero sempre più stringenti, tornarono a prevalere logiche particolaristiche e nel campo delle politiche sanitarie pubbliche subito la riforma incontrò moltissimi ostacoli ma anche un nuovo contesto ovviamente internazionale. Possiamo dire che l'impianto integrato alla salute fu soppiantato dal prevalere di modelli di mercato, la centralità dell'azione politica in ambito sanitario fu sostituita da una individualizzazione delle risposte fornite, la valorizzazione della prevenzione e l'attenzione ai cosiddetti determinanti sociali, culturali e ambientali della salute fu superata da un paradigma selettivo e biomedico della salute incentrato su un approccio individuale ovviamente non più alla salute ma alla malattia. Si avviò anche un processo di depoliticizzazione dell'assistenza sanitaria e in questo contesto prese avvio le controriforme dell'assetto sanitario della sanità. In particolare ricordo la controriforma del ministro della sanità Francesco De Lorenzo del millenovecentonovantadue. Sappiamo tutti e tutte quali sono le sue impronta, le sue linee, le ricordo in tre parole, aziendalizzazione, regionalizzazione del servizio, privatizzazione del sistema anche in linea con quanto nel frattempo aveva fatto e stava facendo, aveva già fatto da un po' nel 79 Margaret Thatcher con la sua controriforma della sanità. Ecco il direi che fu soprattutto la regionalizzazione del sistema, l'aziendalizzazione della sua gestione ma anche il nuovo contesto di restrizione finanziaria a introdurre a introdurre cambiamenti rilevanti rispetto al servizio sanitario ideato negli anni settanta. Nel corso degli anni novanta in un contesto in cui i livelli di assistenza passavano da diritti a obiettivi in funzione però delle disponibilità finanziarie e in subordine al primato dei vincoli di bilancio, i rapporti tra Stato, regioni e aziende si fecero sempre più problematici. I servizi sanitari si accentuarono i problemi legati alla dissociazione tra le politiche nazionali e le politiche regionali. Peraltro le regioni persero sempre più la propria capacità propulsiva che avevano avuto durante gli anni settanta e i comuni videro sempre più ridursi il proprio ruolo e sotto la pressione di un centralismo regionale e di un'autonomia delle aziende sanitarie di grandi eh dimensioni e sempre meno. Eh questo ovviamente fu tutto un mutato contesto internazionale eh diciamo che andò verso questa direzione cioè appunto la riorganizzazione eh del capitalismo in chiave neoliberale volta a espandere la finanza a ridurre l'intervento sociale dello Stato a riconfigurare quest'ultimo rispetto al mercato con l'avvio di ampi processi di privatizzazione ehm ovviamente emerse un ruolo sempre maggiore dell'attività privata e dei soggetti di di mercato lontanissimi anzi opposti al modello al paradigma universale universalista e pubblico precedente da quel momento attività come le cure sanitarie l'assistenza ai ai più fragili vennero sempre più fornite nella forma di beni comprati sul mercato quello che accade oggi anziché diritti garantiti da un welfare state eh in questo caso in questo quadro l'ambito sanitario rappresentò e rappresenta un campo privilegiato di applicazione di nuove politiche di welfare adottate da più governi occidentali e orientate al suo ridimensionamento alla sua cosiddetta ricalibratura ehm sì appunto privatizzazione dei servizi processi di outsourcing dei servizi pubblici promozione di temi assicurativi sostitutivi eh e eh ovviamente logiche di mercato sempre più protagoniste nelle attività di cura salute e assistenza possiamo dire in poche parole poi mi avvia le conclusioni che si basò dall'obiettivo di assicurare a fasce sempre più ampie di popolazione l'accesso ai servizi sanitari a quello del controllo dell'eccesso dei consumi sociali e della spesa sociale pubblica si imposero appunto rigide politiche di bilancio eh e tutto questo condizionò eh i paesi in termini di aumento esponenziale delle disuguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria di riduzione della spesa e di crescita delle forme cosiddette di compartecipazione eh dei cittadini al costo delle prestazioni la la spesa out of pocket e anche di perdita della capacità di programmazione dei servizi sociosanitari tra l'altro le politiche lo sappiamo dell'organizzazione mondiale della della sanità hanno sempre più subito numerosi contraccolpi il loro il ruolo dell'OMS è stato ridimensionato sono entrati in campo protagonisti come la la banca mondiale il fondo monetario internazionale l'organizzazione mondiale del commercio nell'ambito della sanità eh è venuto via via meno il paradigma di Almaata e la comprehensive primary health care e in tutto questo c'è stato un forte sempre più protagonismo dei partenariati eh globali pubblico privato ehm soprattutto nell'ambito dei della dei farmaci e dei vaccini con le loro logiche di profitto ecco in tutto questo eh mi avvio alle conclusioni la la pandemia il dibattito attuale a mio parere suggeriscono eh la necessità di un servizio sanitario pubblico universale e qualitario frutto di un impegno politico volto a promuovere la salute un impegno diretto a formulare un progetto politico che rimetta la salute al centro del cambiamento sociale e credo che la sfida sia quella di rimaginare un nuovo modello di welfare socio sanitario espansivo espressione di una gestione partecipata democratica comuna capace anche di ripoliticizzare il terreno della produzione di salute e della conoscenza sanitaria credo che eh rimettere la la centralità rimettere al centro una scusate cioè ritornare su su un approccio centrale volto a considerare la salute e la cura prima di tutto un fatto politico significa innanzitutto superare i limiti di una delega agli esperti ma significa anche che la salute è oggetto primario delle politiche sanitarie pubbliche e non della medicina clinica e diagnostico terapeutica che la considera come mera assenza di malattia e come problema solo individuale e questo però comporta anche riaffermare la priorità di un intervento incentrato sui determinanti sociali ambientali culturali della salute quindi lotta eh più totale alle suguaglianze questo significa che la tenuta ma anche la riqualificazione e il potenziamento di un servizio sanitario pubblico dipendono dalle scelte politiche e valoriali che si faranno a livello nazionale internazionale europeo naturalmente da una programmazione nazionale dei servizi dal rifinanziamento della spesa sanitaria e sociale ma anche da una spinta culturale e politica. Credo che a mio parere il terreno della salute possa essere ancora un terreno per conflitti e per una politica inedita di alleanze in questo per mobilitazioni che su questo terreno cruciale possono ancora esserci e credo per diciamo dirlo molto rapidamente che le concetti alcuni concetti che che possono eh diciamo essere messi al centro per un futuro prossimo sono riqualificazione del servizio sanitario pubblico ripensamento del modello di sanità pubblica sulla base di un riconoscimento di un'individuazione di una soddisfazione dei bisogni eh fondamentali e multidimensionali individuali e collettivi creazione di una forte infrastruttura di servizi sociosanitari all'insegna dell'universalismo e della democrazia centralità di una concezione della salute non capitalizzata ma socializzata responsabilità pubblica rilancio della medicina territoriale dei servizi di base ripensamento della formazione universa universitaria riforma dell'inquadramento contrattuale quindi rimozione dei vincoli che limitano la conferma stabile abolizione del tetto di spesa sul serzonale intendo rilancio della programmazione e eh della integrazione con i servizi sociali ripresa dell'attività ordinaria altrimenti si avvantaggia il privato rilancio della prevenzione e eh di un approccio attento ai determinanti sociali ambientali e culturali contrasto ovviamente al modello sanitario lombardo superamento di una logica prestazionale e necessità di una visione organica capace di ripensare la sanità in base ai bisogni di comunità ai risultati di salute agli obiettivi dell'uguaglianza e quindi io credo che vada rimessa al centro la il diritto alla salute la tutela della salute al centro della di una politica del cambiamento come un diritto fondamentale ma anche con una forma essenziale di giustizia sociale e di liberazione umana io credo che la posta in gioco è il futuro del della del servizio sanitario nazionale ma più in generale del welfare socio sanitario del welfare e che quindi proprio questo che ehm come dire rimettere al centro eh al centro della politica e del cambiamento sociale il benessere delle persone i i loro bisogni in termini di salute ma anche di assistenza previdenza istruzione abitazione tutela del reddito e vi ringrazio davvero moltissimo scusate la rapidità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti